Asiago, due anni che è in corso, è stata iniziata con la prima pietra all'ospedale, ma è ancora tutto allo stesso punto, come mai i programmi per il futuro? Noi abbiamo innanzitutto volontà di dare servizi a ospedalieri degni di questo nome ai cittadini di Asiago, provane sia che siamo intervenuti ad esempio su quella giusta petizione e segnalazione che hanno fatto le mamme di Asiago per la pediatria. Asiago non avrà una sanità di serie B, quanto a cantieri o ad altre cose vanno ovviamente verificate sotto profilo tecnico, non compete a me. Cercheremo di capire meglio come sono tutte queste vicende, però dico agli abitanti di alto piano che stiano tranquilli rispetto al fatto che i servizi ci saranno.